Ciao, come state? Allora, sono in pigiama, sono pronta per andare a dormire, ma voglio rispondere un po' di domande random per quanto riguarda l'anno all'estero. O in particolare il mio anno all'estero. Allora, Anais, che programma hai scelto? Allora, io ho scelto il programma Exchange Plus USA, ovvero un programma che non ti permette di scegliere lo stato dove vuoi capitare, ma ti dà la sicurezza al 100% che tu capiterai in una città con più di 10.000 abitanti. Io in questo caso sono stata molto fortunata perché la contea dove sono ora conta più o meno 300.000 abitanti e la scuola dove sono io ha più o meno 2.500 studenti, quindi comunque molto grande. Anais, hai mai avuto ripensamenti? No, sinceramente no, perché questo era il mio sogno da quando avevo 10 anni, quindi no, assolutamente non ritornerai mai indietro, non cambierei mai la mia idea. Quanto tempo prima ti sei iniziata ad informare? Allora, diciamo che io mi sono iniziata ad informare molto molto tempo prima perché volevo avere la sicurezza che l'agenzia che avrei poi scelto fosse quella giusta al 100%, perché so che molte persone hanno avuto problemi appunto con la loro agenzia, quindi volevo essere al 100% sicura che la mia agenzia fosse quella giusta per me. Alla fine l'agenzia con cui sono partita è Interstudio Viaggi, dell'agenzia migliore che esista. Comunque sì, mi sono informata molto tempo prima, però ho iniziato a compilare le pratiche all'incirca attorno al settembre 2022 e le ho finite attorno al gennaio, sì, però poi ho finito i vaccini obbligatori per partire, se non sbaglio, verso giugno. E poi ho pure rinnovato il passaporto che mi è arrivato intorno ad aprile. E invece la parte del passaporto americana, quindi quella che ti permette di entrare negli Stati Uniti, è arrivata attorno ad aprile.